Ciao e benvenuto nel mio canale YouTube sugli animali. In questo video parleremo di allenamento funzionale per cani, potenziare la connessione e la salute. L'allenamento funzionale per cani mira a migliorare la forza, l'agilità, l'equilibrio e la coordinazione dei nostri amici a quattro zampe, al fine di mantenere o migliorare la loro salute fisica e mentale. Oltre a ciò, può aiutare a rafforzare il legame tra il cane e il suo padrone. Scopriamo insieme alcune idee per l'allenamento funzionale dei cani. 1. Esercizi con il balance pad. Gli esercizi con il balance pad sono fondamentali per l'allenamento funzionale del cane. Questi particolari cuscini, caratterizzati da una consistenza spessa e morbida, sono progettati per mettere alla prova e migliorare l'equilibrio del nostro amico a quattro zampe. Quando il cane si posiziona sul pad, la superficie instabile obbliga i muscoli a lavorare in modo più intenso per mantenere la stabilità. Puoi iniziare incoraggiando il tuo cane a salire sul cuscino, prima usando solo le zampe anteriori e poi progressivamente tutte e quattro. Questa attività non solo rafforza la muscolatura, ma aumenta anche la consapevolezza corporea, favorendo un migliore controllo motorio e prevenendo infortuni. 2. Cavalletti. I cavalletti rappresentano uno strumento efficace nell'addestramento cinofilo per potenziare le abilità motorie dei cani. Posizionando bastoni orizzontalmente al suolo a una certa distanza, l'uno dall'altro, si crea un percorso che il cane deve superare, alzando individualmente ciascuna zampa per evitare di inciampare. Questo tipo di esercizio, se fatto regolarmente, aiuta il cane a sviluppare una migliore coordinazione, rendendolo più consapevole della posizione delle sue zampe. Inoltre, migliora l'agilità, poiché il cane impara a muoversi con precisione e rapidità. Oltre ai benefici fisici, i cavalletti possono anche servire come divertente attività ricreativa, rafforzando il legame tra cane e padrone durante le sessioni di allenamento. 3. Fit Pose Donuts. Il Fit Pose Donuts è uno degli attrezzi innovativi del panorama del fitness canino, mirato a potenziare l'equilibrio e la forza del nostro amico peloso. Con la sua forma unica e la superficie leggermente instabile, il Donuts diventa una piattaforma che mette alla prova le capacità stabilizzatrici del cane. Chiedendo al tuo animale di eseguire varie posizioni, come sedersi, stare in piedi o sdraiarsi sul Donuts, lo si sfida a utilizzare e rafforzare i muscoli profondi, migliorando così l'equilibrio generale. Questo strumento non solo contribuisce al benessere fisico del cane, ma anche a quello mentale, dato che l'animale deve concentrarsi per mantenere la posizione desiderata. Utilizzare il Fit Pose Donuts regolarmente nell'allenamento offre un mix di sfide e divertimento, arricchendo l'esperienza di esercizio. 4. Esercizi di proprio eccezione. Gli esercizi di proprio eccezione sono fondamentali per migliorare la consapevolezza sensoriale del cane riguardo alla posizione e al movimento delle sue zampe e del suo corpo in generale nello spazio circostante. La proprio eccezione si riferisce alla capacità di percepire e riconoscere la posizione del corpo senza fare affidamento sulla vista. Esercizi come il Poe Target sono particolarmente utili. In questo esercizio il cane viene istruito a toccare intenzionalmente un oggetto designato con una delle sue zampe. Questo non solo migliora la coordinazione, ma insegna anche al cane a muoversi con precisione e consapevolezza. Questi esercizi sono essenziali per cani che partecipano a sport o attività ad alta intensità, ma sono anche benefici per tutti i cani, contribuendo a prevenire infortuni e migliorando l'agilità generale. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. 5. Percorsi ad ostacoli I percorsi ad ostacoli sono una forma entusiasmante di allenamento per cani che combinano vari elementi per sfidare e stimolare sia fisicamente che mentalmente l'animale. Creando un percorso che include coni da girare, tunnel da attraversare e barriere da saltare, si offre al cane un'opportunità unica di esercitare diversi gruppi muscolari e sviluppare capacità diverse. Mentre il cane naviga attraverso questi ostacoli, la sua agilità, coordinazione e velocità vengono potenziate. Oltre ai benefici fisici, questo tipo di allenamento stimola anche il cervello del cane, richiedendo concentrazione e obbedienza per seguire le indicazioni del padrone. La pratica regolare su percorsi ad ostacoli non solo rende un cane più atletico, ma rafforza anche il legame tra l'animale e il suo proprietario, rendendo l'esperienza di addestramento reciprocamente gratificante. 6. Giochi di ricerca I giochi di ricerca sono tra le attività preferite da molti cani, sfruttando il loro innato istinto predatorio e olfattivo. Quando si nasconde il giocattolo o il premio preferito del cane, si attiva il suo desiderio di scovare e rintracciare l'oggetto nascosto. Questa ricerca non sollecita solo fisicamente il cane, ma soprattutto lo stimola mentalmente, richiedendo concentrazione e pazienza e uso attivo dei sensi, in particolare l'olfatto. Il processo di individuazione e scoperta fornisce anche una profonda soddisfazione e gratificazione al cane, rafforzando la sua fiducia e autostima. Inoltre, i giochi di ricerca possono essere facilmente adattati a vari ambienti, sia interni che esterni, e offrono un'ottima opportunità per i proprietari di interagire e rafforzare il legame con i loro amici a quattro zampe, rendendo l'attività divertente e costruttiva per entrambi. 7. Tug of War Tiro alla fune Il tug of war, o tiro alla fune, è un gioco antico e amato da molti cani e dai loro proprietari. Questa semplice attività, che coinvolge un pezzo di corda o un giocattolo appositamente progettato, richiede che cane e proprietario si sfidino in una prova di forza. Oltre ad essere estremamente divertente, il tiro alla fune aiuta a sviluppare e tonificare i muscoli del cane, in particolare quelli delle mascelle, del collo e delle spalle. Ma, come per ogni gioco, è fondamentale che si svolga in modo sicuro. I proprietari dovrebbero insegnare ai loro cani comandi chiari come lascia o rilascia, per garantire che il gioco possa essere interrotto immediatamente, se necessario. Questo assicura non solo che l'attività rimanga un gioco controllato e positivo, ma rafforza anche la disciplina e l'obbedienza del cane, creando un'esperienza bilanciata tra divertimento e apprendimento. 8. Esercizi di stretching Gli esercizi di stretching per cani rivestono un'importanza cruciale, analogamente a quanto accade per gli esseri umani. Queste attività di allungamento aiutano a mantenere i muscoli elastici, riducendo il rischio di tensioni o lesioni, soprattutto dopo esercizi intensi o lunghi periodi di inattività. Addestrare un cane a estendere e flettere le zampe o a inclinarsi lateralmente non solo migliora la sua flessibilità, ma promuove anche una maggiore consapevolezza corporea. Questi movimenti contribuiscono a rilasciare tensioni muscolari, facilitano la circolazione e possono anche aiutare a rilevare precocemente eventuali problemi di salute. L'adozione regolare di routine di stretching nella cura del cane può anche rafforzare il legame tra padrone e animale, poiché questi momenti diventano opportunità per interazioni calmanti e rassicuranti. Ricorda sempre di iniziare lentamente e progredire gradualmente in modo da evitare infortuni. Monitorare il tuo cane per segni di affaticamento o disagio. Assicurarti di avere l'approvazione del veterinario prima di iniziare un nuovo regime di allenamento, specialmente se il tuo cane ha problemi di salute preesistenti. Con l'allenamento funzionale non solo potenzi il fisico del tuo cane, ma rafforzi anche la connessione tra di voi, rendendo l'esperienza di allenamento qualcosa di piacevole e gratificante per entrambi. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.